Musica Posso infatti un commento che volevo dire è che ascoltando le parole appunto le parole dei quattro startupper di prima devo dire belle fresche sia nei contenuti che nel ritmo ma soprattutto nei valori che trasmettevano come diceva Emil negli ultimi sei mesi io devo ammettere è vero si registra un cambiamento notevole già rispetto a questo rosso e blu dell'anno scorso oggi c'è un valore decisamente più alto nel senso che tutti hanno trasmesso il concetto che stanno lavorando non solamente per fare soldi il soldo non è stato giustamente nemmeno considerato il soldo giustamente è un mezzo non il fine se posso fare una sintesi mi hanno trasmesso questo che fare impresa fare impresa non è più un ascensore sociale è un ascensore ascensore valoriale se mi passate il riferimento ma avete trasmesso questo che è di una bellezza bellezza lo ripeto bellezza straordinaria cioè quando si diceva anche l'anno scorso bisogna fare innovazione sostenibile perché i novelli Michelangelo e appunto Leonardo di oggi devono pensare in modo nuovo per migliorare il mondo beh lo avete fatto vedere è possibile ce l'avete nell'animo e poi anche l'altra considerazione che ha fatto Emil che ha detto che praticamente l'impresa è uguale a start up non c'è più questa dicotomia non c'è più nemmeno il rapporto io sono un'impresa te sei una semplice start up che cosa vuoi tu sei piccolino in realtà è stato detto la tecnologia è in mano alla start up è in mano ai giovani anche questo è un ribaltamento totale del rapporto per quello che sto dicendo e poi come appunto anche il messaggio finale di Gabriella che ci va a dire come il rapporto del mondo questa coincidenza fra il mondo reale il mondo reale e il mondo quantistico che era fino a poco tempo fa fino a quello quantistico qualcosa di elitario di irraggiungibile e diventa diciamo a disposizione l'equazione di shredding abbiamo studiato ma non me la ricordavo poi sono andato a cercarla tutto questo cosa vuol dire? vuol dire che fa sì che i valori si mischiano e sono a una nostra portata e il concetto di bellezza va a sostituire è un KPI nuovo che va a sostituire il KPI della produttività il KPI fino a ieri se avessimo fatto questo incontro ammesso che non c'era ma quando si faceva in corso Marconi negli anni 70 e 80 si facevano corsi di formazione per poter formare i manager ovviamente si parlava solo di produttività solo di produttività oggi abbiamo parlato in maniera alta e non retorica ma concreta ma lasciatemi dire sferica di bellezza considerata proprio un valore alto che tra l'altro è un valore tipico italiano è un valore tipico nostro e poi il bello di oggi come hai detto anche tu Salvatore e come ci aveva detto anche Alec Ross il consulente di Obama e di Hillary Clinton che dice voi italiani avete un valore straordinario è il territorio utilizzatelo è la vostra da lì prendete energia noi oggi abbiamo messo insieme fatto un territorio unico Bergamo-Brescia accumunati proprio da questo pensiero da questo sentimento nuovo e considerare la bellezza che all'inizio quando l'avevamo pensata insieme a Salvatore pensavamo in effetti fosse un po' velleitario anche un po' ambizioso forse anche fuori tema invece oggi abbiamo ci avete dimostrato che abbiamo nella nostra visione nel nostro sogno ci abbiamo visto giusto e quindi stiamo aprendo una strada nuova una strada nuova di una cultura che tra l'altro viaggia a una velocità incredibile come ha detto Emil in pochi mesi sta cambiando il mondo e noi ci fa piacere oggi qui averlo diciamo rappresentato il 30 giovedì ci tocca è bravissimo grazie infatti scusami il 30 giovedì c'è l'evento di chiusura quindi anche lì ci sarà appunto chilometro rosso e CSMT che saranno collegati attraverso quindi saremo in aula magna qui di ingegneria a Brescia e presso l'aula dell'università di Bergamo ci saranno anche due rettori delle due università che parleranno e ci introdurranno praticamente apriranno in modo tale da poter poi passare il microfono a degli inspiring speaker che saranno particolarmente illuminanti come Massimo Temporelli che è un fisico divulgatore che tra l'altro già la mattina parlerà anche qui alle scuole al liceo e poi ci sarà Cristina Mollis che è la fondatrice CEO di Ocapi Eric Ezechiele che è stato il fondatore della prima Benefit Corporation italiana poi Sabrina Grazzini che è divulgatrice e anche esperta del diritto del lavoro una fra le italiane che Forbes Under 30 ha selezionato quindi anche questo diciamo l'evento finale del 30 sarà un evento da fuochi d'artificio fuochi d'artificio coerenti con tutto questo tra l'altro piccolo passaggio sabato c'è stato il TEDx qui a Brescia di cui CSMT è stato il key sponsor che era sull'empatia e mi fa piacere pensare che l'empatia si ricuscia con quell'entanglement che diceva prima Gabriella cioè un legame il legame che non è qui fra nuclei o elettroni ma un legame fra persone abbiamo bisogno di legame soprattutto quando dobbiamo dominare la tecnologia e l'intelligenza artificiale quindi vi aspettiamo tutti giovedì 30 alle ore 16 per questo evento finale vero salvatore dove faremo i fuochi d'artificio Grazie a tutti